Buongiorno, riprendiamo la nostra lezione analizzando le grandezze periodiche. Un segnale si dice periodico se presenta una ripetizione nel tempo identica ad intervalli regolari. Questo intervallo è detto periodo. E' bene ribadire che il periodo lo possiamo misurare in una qualsiasi unità di misura di tempo, secondo il minuto l'ora in elettronica elettrotecnica viene di solito utilizzato il secondo anche per una questione di velocità di variazione del segnale. Grandezze periodiche. Visto che abbiamo parlato di periodo possiamo in qualche modo introdurre anche il concetto di frequenza. La frequenza, da un punto di vista concettuale, rappresenta il numero di evoluzioni del segnale nell'unità di tempo, che come dicevamo prima, di solito è il secondo. Se utilizziamo il secondo come unità di misura di tempo, possiamo esprimere la frequenza in Hertz, quindi l'Hertz dimensionalmente è il reciproco del secondo. E questo vale anche per la relazione. Quindi per determinare la frequenza basta effettuare il reciproco del periodo. E viceversa, per determinare il periodo a partire dalla frequenza, possiamo effettuare appunto il reciproco della frequenza, uno fratto F. Unità di misura Hertz. Grandezze alternative. Una grandezza si dice alternativa quando abbiamo delle aree, quindi nel periodo ovviamente, che sono perfettamente controvistiche. Quindi possiamo dire che il valore medio nel periodo risulta pari a zero. Quindi in questo caso la grandezza è detta alternativa. Grandezze sinusoidali. Una grandezza sinusoidale, si dice sinusoidale, quando la curva può essere rappresentata da una sinusoide. Qui vediamo appunto la rappresentazione grafica. Possiamo senz'altro dire che questa grandezza sinusoidale è anche alternativa, perché l'area positiva e l'area negativa sono perfettamente identiche. Quindi nel periodo, questo è importante, il valore medio è nullo. Da un punto di vista analitico, possiamo esprimere la sinusoide, o il segnale sinusoidale, in questo modo. Ym, dove ym è il valore massimo. Ovviamente ci sarà un valore opposto, meno ym, che rappresenta il minimo raggiunto dalla sinusoide, per seno di ωt, dove ω è 2πf, ed è la pulsazione angolare, che si misura in radianti al secondo.